A che pro illuderci diventeremo atroci? Verranno a mancarci terra e acqua, forse verrà a mancarci l'aria e ci stermineremo per campare. Finiremo per divorarci l'un l'altro e i nostri spirituali ci faranno compagnia in questa barbarie. Siamo stati teofagi e saremo antropofagi, non sarà che un ulteriore compimento. Allora si vedrà, in modo lampante, quanto avevano di barbaro le nostre religioni. E sarà l'incarnazione dei nostri imperativi categorici, la presenza fatta sireale dei nostri dogmi, la rivelazione dei nostri misteri spaventosi e l'applicazione delle nostre leggende, sette volte più disumane delle nostre leggi penali. Le arti ci nascondevano questi orrori funebri e sanguinosi. Domani assaporeremo questi orrori nella loro crudezza. Ne moriremo. I rari superstiti li proscriveranno insieme con i mostri che li accreditano e li perpetuano. Che cosa sono mai i nostri mezzi più micidiali, paragonati alle nostre tradizioni? E queste tradizioni, alle quali teniamo più che a noi stessi, troveranno mezzi ormai alla loro altezza e ci costringeranno per la prima volta apporgere la gola affinché tutto sia consumato.